Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui nel mio canale Ovviamente come avevo detto appunto ieri Eccovi il video di annunciamento del contest appunto In cui vi annuncio che il contest ha finalmente inizio Le regole sono ovviamente pochissime Basta essere iscritto al mio canale Poi lasciate perdere like, cazzate varie che non mi interessano La cosa più importante è che mi mettete nei commenti di questo video Il link con cui partecipate e ovviamente con scritto partecipo Così io so quanti partecipano So dove andare anche a cercare i video e quindi mi facilita la cosa Niente diciamo che le regole appunto erano queste qui Molto semplici Partecipate in tanti che almeno è meglio Non ci divertiamo di più E niente direi di passare ai premi Ieri avete già visto uno dei mazzi appunto Il primo posto Oggi vi farò vedere gli altri due mazzi che appunto sono in palio Per il secondo e il terzo posto Perfetto allora il terzo posto si aggiudicherà uno standard A scelta Ok ovviamente io questi sono mazzi miei Poi ovviamente ne compriamo uno nuovo proprio apposta per il terzo classificato Che puoi scegliere tra un Phoenix Un B Bicycle Aviator Aspetta che E taglio Eccolo Ce n'è C'è una vasta scelta di standard Ok sì avete capito comunque O un Phoenix O B O Bicycle Aviator Taglio Queste sono tutte le standard che ho provato Sì vabbè a parte ci sono anche le second lì Comunque Lasciamo perdere quelle Che non ci interessano Questi sono i Diciamo i vari mazzi a scelta Che può scegliere il terzo classificato Ovviamente non tutti ma un solo standard Poi Chi preferisce quale Non lo so Vedremo E provvedere Perfetto avete visto appunto adesso i premi per il premio per il terzo classificato Passiamo adesso al secondo classificato Il secondo classificato si aggiudicherà Tan 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 Queste qui Bicycle Guardians Lo cercate anche su internet Cercatele comunque Le immagini perché sono veramente belle queste carte Lo guardate e sono veramente belle stilose Non so cosa ricordino Penso tipo Di tagliare l'Olimpo Non ho capito bene Comunque Bicycle Guardian Cercatele le immagini E guardatevele Questo sarà il premio per il secondo classificato Ok E adesso passiamo ovviamente al primo posto Che vi avevo già fatto vedere ieri Nel video di ieri appunto Uno dei miei mazzi preferiti Come vi ho detto L'eleganza fatta mazzo secondo me E appunto il primo posto si aggiudica le Madison Rounders Brown Ok Non so magari qualcuna a quelle nere Aggiunge anche queste qui alla collezione Che male diciamo Non fanno E niente Diciamo che sono bellissime queste carte Veramente sono caduto in amore con queste carte Che sono veramente belle Niente Il primo posto si aggiudica queste E niente Detto ciò Diciamo che abbiamo ufficialmente il contest Quindi il contest inizia da oggi Avrete più o meno Tre settimane di tempo Diciamo per pubblicare i video Comunque sia tre settimane Un mesetto giù di lì Dopodiché guarderò tutti i video Deciderò i vincitori E annuncerò i vincitori Quindi partecipate numerosi Che mi fa piacere E grazie di aver visto il video E ciao Ciao